Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Carmi Special chiedo scusa se il video non sarà di altissima qualità soprattutto per quanto riguarda l'audio e non sarà montato così come non sarà neanche montato il video di domani perché? per due motivi uno è il fatto che ho dovuto ripristinare il pc quindi dovrò reinstallare tutti i programmi, i file, tutto e in più sono molto impegnato con lo studio a causa appunto degli esami universitari quindi spero apprezzate comunque lo stesso video anzi lasciate un like come supporto morale comunque il reso conto della mia giornata fantacalcistica è questo per quanto riguarda il fantacalcio con i supporters è andato uno schifo infatti la mia squadra sia in attacco con Higuain, Theroux e Iago Falke non ha portato bonus, avevo solo lasagna in panchina poi a centrocampo Perotti non ha giocato Suso non ha fatto granché e Felipe Anderson è comunque ancora infortunato mi sono scontrato contro se non sbaglio Snake Boy poi mi ha battuto 2-0 secco comunque in questo fantacalcio diciamo sono ancora a settimo ottavo dopo due giornate ancora presto per dirlo soprattutto perché la squadra comunque è buona ma sta rendendo ancora poco passiamo al fantacalcio, quello con Seekwolf molti di voi forse non lo sanno ancora ma sono nel fantacalcio di Seekwolf e nel giro Nebby la sta la trovate, la sta live fatta appunto sul suo canale ci sono diciamo youtubers come Total Fred, Amendola Brothers, Il Green quindi youtubers molto famosi e questa giornata mi scontravo, la prima giornata mi scontravo contro Donato l'iscritto che ha vinto il contest abbiamo se non sbaglio pareggiato 2-2 dico se non sbaglio perché i conti ancora ufficiali non ci sono facendo entrambi 74 se ho contato bene infatti io avevo Zeekwolf con la sua doppietta e lui aveva immobile con una doppietta poi il resto niente di che vi mostrerò la mia rosa in questo fantacalcio nei prossimi giorni non appena appunto avrò sistemato tutte le cose nel pc quindi vi mostrerò appunto anche gli altri risultati passiamo adesso al fantacalcio quello un po' che ci interessa di più però quello con i miei amici in quanto è quello che dal punto di vista economico mi può interessare ho vinto di nuovo ragazzi infatti la mia squadra ha fatto un buon 75 e mezzo non siamo mai scesi sotto le 75 in queste 4 giornate grandioso mi hanno segnato Perisic al centrocampo Calleone in attacco in più Florenza al centrocampo mi ha fatto una super prestazione prendendo 7 più un 8 e in più ho trovato un bonus di quadrato così casuale quindi una squadra che sta rendendo bene sono stato anche un po' fortunato perché il mio avversario ha fatto 71 e mezzo nonostante i due gol di Zeco diciamo quella munizione di Luis Alberto all'ottantasettesimo è stata decisiva per non farlo arrivare al 72 quindi al secondo gol quindi ragazzi sono stato sia bravo perché comunque la rosa sta rendendo bene ma anche fortunato perché il mio avversario non ha fatto il secondo gol e in questo Fanta Calcio infatti sono prima in classifica pari merito con un'altra squadra 9 punti in 4 giornate è davvero tanto ragazzi quindi lasciate un like anche se per augurarmi buona fortuna in questa nuova giornata la quinta e a tal proposito domani uscirà il video appunto sulla quinta giornata in cui andremo a vedere nel nostro Fanta Calcio che ha fatto i punti migliori vi dirò appunto la formazione che ho schierato io e in più appunto vi darò qualche consiglio sulla nuova giornata di Serie A lasciate un like qua sotto ditemi come è andata la vostra giornata qua sotto nei commenti e iscrivetevi se non siete ancora iscritti ci vediamo domani alla prossima ciao